Rispondendo a una società che cambia continuamente, per noi di Ability Group è sempre stato questo lo stimolo più importante. Cercare le soluzioni più innovative in ogni angolo del mondo per portarle in un settore che aveva estremo bisogno di rinnovarsi. Informare, formare, consigliare. Giriamo il mondo per scoprire, diffondere e valorizzare le tecniche e le metodiche più efficaci nel settore della fisioterapia e della riabilitazione. Competenze che sono frutto di stretti rapporti coltivati da tempo con istituti di formazione internazionali, università, opinion leader e aziende costruttrici. Noi di Ability Group siamo in grado di individuare gli obiettivi concreti di un progetto, definendo gli step necessari per raggiungere il risultato desiderato nel rispetto delle tempistiche e dei budget stabiliti. Vi siete mai chiesti che cosa vuole un paziente che entra in un centro di fisioterapia? Oggi un centro di fisioterapia non può prescindere dal dimostrare in maniera oggettiva al paziente ai medici i costanti miglioramenti, ad esempio attraverso l'utilizzo dell'ecografia o l'inserimento del KE Lab, il primo sistema all-in-one di valutazione oggettiva e allenamento con feedback per i professionisti della riabilitazione e dello sport. La terapia manuale è la pietra miliare fra i trattamenti. Siamo felici quando i fisioterapisti ci ringraziano per aver scoperto Manutera, la terza mano del fisioterapista che rende la terapia manuale più efficace e piacevole per chi la riceve. Un lettino è la base per declinare la terapia manuale è il prodotto più importante. La terapia fisica e la tecnologia in questo settore sono un valido alleato per chi si occupa di fisioterapia. Noi di Ability Group siamo in grado di consigliare e selezionare i migliori dispositivi. La riabilitazione in palestra è sempre più considerata una componente indispensabile. Noi di Ability Group siamo il vostro partner ideale per progettare o riorganizzare lo spazio destinato alla terapia attiva anche in ambienti ridotti e a costi contenuti. Ad esempio con le nostre Speed Pulley specifiche per l'esercizio dosato sul paziente. Wall Exercise Total Body, una postazione di lavoro completa ad elastici. Offriamo anche soluzioni inerziali e riconosciamo l'importanza della scelta della pavimentazione offrendo soluzioni gommate o in erba sintetica altamente personalizzabili. Trasforma la palestra in un ambiente interattivo con K-Lab mediante l'allenamento con feedback visivo e il Rehab Gaming. Siamo in grado di creare il tuo corner proprio cettivo e di allenamento senso motorio con i tappeti Sense Amor con l'utilizzo di Slash Pipe, le palle sfera e BlazePod, il sistema di reaction training leader al mondo. VertiMax è un prodotto unico e versatile per allenare la forza, l'equilibrio e la coordinazione in riabilitazione e nello sport. Anche per le società sportive professionistiche, Ability Group si è dimostrata un partner ideale. Attività di small group training per proporre corsi per piccoli gruppi grazie a molti esempi pratici, stimolanti e divertenti da implementare. Informiamo delle novità partecipando agli appuntamenti più importanti del settore. Congressi, simposi, fiere. La formazione C sta particolarmente a cuore e siamo orgogliosi di proporre ogni anno programmi di formazione e strumenti sempre più interessanti. PBFR, solo per fare qualche esempio, siamo noi ad aver portato in Italia e in Europa la tecnica americana Evidence Based Blood Flow Restriction, utilizzata dai migliori professionisti sanitari e club sportivi al mondo. Con noi potrete ottenere l'unica certificazione Blood Flow Restriction Rehab Specialist. Con il PTS Delphi, l'unico dispositivo al mondo brevettato e certificato per questa tecnica. Dall'arrivo in Italia, i corsi Gastron Technic sono stati un susseguirsi di sold out, seguendo quanto accade da tempo negli Stati Uniti e in altri paesi del mondo, con oltre 21.000 professionisti formati. Red Cord è uno dei nuovi fiori all'occhiello nel settore delle sospensioni, vantando oltre 25 anni di leadership mondiale nel campo dell'exercise attraverso il metodo Neurac e Active. Abbiamo importato in Italia il FormThotix Medical System dalla Nuova Zelanda, uno strumento brevettato, versatile e comodo, estremamente semplice da utilizzare, fondamentale per professionisti della riabilitazione. I percorsi formativi, therapeutic exercise, ecografia, in fisioterapia e testing and objective assessment sono indispensabili per acquisire competenze necessarie a creare un percorso riabilitativo completo per tutti i pazienti. Siamo convinti che la nostra esperienza, insieme alla vostra voglia di crescere, possano continuare a fare ancora grandi cose. Ability Group è a tua disposizione per orientarti nella scelta e per trovare la migliore soluzione alle tue necessità.